Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini, intervistato nel programma Belve, belve vuol dire una belva, dice che la sua fidanzata e la Meloni sono due faine, odiano perdere, sono due faine. Sono andato a cercarmi il significato di faina, mammifero vivente nei boschi d'Europa, predatore di uccelli e mammiferi di piccole e medie dimensioni, spesso anche di animali domestici, a corpo allungato, coda lunga, testa slanciata, orecchie non molto grandi, pelliccia abbastanza pregiata di color bruno, grigiastro su tutte le parti del corpo a eccezione di una macchia bianca nella regione della gola e del petto. Però, per quanto riguarda quando si dice sei una faina, di persona dal volto aguzzo e con occhi molto piccoli, oppure persona infida, scaltra e malvagia. Beh, insomma, in un colpo solo ha offeso fidanzata e premier, quindi infide e malvagie e scaltra. E voi direte, ma che c'entra? Eh non lo so, le ha colpite in un colpo solo, Salvini ha fatto fuori tutte e due. Per un politico le parole sono importanti e fondamentali. Un politico non tira su i sacchi di cemento, un politico non costruisce un muro, non fa le fotocopie in un'azienda, non è nella catena di produzione, ma un politico lavora con le parole. Quindi un politico dovrebbe essere stare molto attento a quello che dice, piuttosto fai delle pause e pensa a quello che dici. Dire che fidanzata e premier sono due faine, che vuol dire malvagio e infido, insomma. Voi direte, vabbè, ma dai, stai lì a guardare il significato? È certo, è certo. Il politico lavora con le parole, il suo lavoro sono le parole, è fondamentale. Eh vabbè, dai, ma lui era in modo simpatico dire che la premier e la fidanzata sono due faine. Vi ripeto, faina vuol dire infido, scaltro e malvagio. E ma perché non vogliono mai perdere? Salvini, il termine faina l'hai buttato lì a caso. E quindi, quindi, il termine faina è buttato lì a caso. È un'offesa. Vabbè, ho capito che non tutti i politici stanno attenti a quello che dicono, non tutti i politici hanno un linguaggio forbito, non tutti i politici sanno esattamente cosa significhino le parole. Probabilmente Salvini, quando ha detto faina, non sapeva esattamente il suo significato. Di persona dal volto aguzzo, con occhi molto piccoli, infida, scaltro e malvagio. Vabbè, eh ma prof, tu stai lì a guardare ste robe, Salvini è molto più alla mano, eh lo so, Salvini fa il Salvini, cosa vi devo dire? Poi vi chiedete perché ha l'8%? L'avete capito o no perché ha l'8%? Va bene, dice con Meloni stiamo costruendo un'amicizia, ma non aveva detto che era una sua grande amica? Sei una grande amica? Non stai costruendo un'amicizia, vuol dire che sei già amico, quindi vabbè. Va bene, comunque, ogni tanto lei e la mia fidanzata giocano a burraco la sera. Ah sì? Si vedono la sera a casa a guardare i film come quando si andava a scuola? Non mi risulta, però se lo dice lui che si vedono la sera e giocano a burraco, Caspiterina ne hanno di tempo, eh? Boh, non lo so, lui dice così, magari hanno giocato una volta, per sbaglio, tutte le loro la sera giocano a burraco, va bene. Ma lui dice, Salvini, io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo. Chi lasci aspettare un attimo? Non ha capito. Persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo. Eh? E vuoi fare concorrenza all'Hashline? Si capisce niente. Va bene. Il vicepremier poi ha ricordato, è vicepremier, eh? Che entro l'autunno si farà il congresso, l'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona. Il leader leghista poi risponde a una domanda, nessuno si è fatto avanti? Su possibili sfidanti? Per ora no, dice Salvini. E certo, la Lega l'ha fondata lui, questa Lega qua. È sua. L'ha fondata lui. È la Lega di Salvini Premier. Si chiama Lega Salvini Premier e ci volete mettere un altro capo politico, no? Non lo so, Giorgetti, capo politico di Lega Salvini Premier. Dovrebbe cambiare anche il nome del partito. Vabbè, comunque. Ma lui dice che sta costruendo un'amicizia con Meloni. Abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica. Ogni tanto la sera gioca a Burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere. Io non gioco che ho già una vita complicata. Andiamo avanti. Poi su Vannacci dice ci stiamo ragionando perché una parte della Lega non vuole Vannacci. Vannacci non vuole Vannacci candidato perché, insomma, Vannacci diciamo che è oltre il limite. Nel senso, uno che ti dice che fa finta di cadere per sentire la pelle, insomma, è fuori dalle logiche anche più. Quindi diciamo che anche una parte della Lega non lo vuole. Nessuno lo vuole oggi Vannacci candidato perché è troppo oltre. È troppo oltre. Poi dice Salvini, io non condivido. Infatti io ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ma per me uno può essere come vuole, l'ultima delle mie intenzioni, entrare nella vita privata delle persone. Quindi lui dice che di Vannacci condivide le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Cioè Salvini dice che Vannacci deve avere la possibilità di esprimere le sue opinioni, ma io non condivido le sue opinioni. Insomma, sta facendo una bella retromarcia su Vannacci, perché è da candidarlo come capolista dappertutto, a dire io condivido la sua libertà di pensiero, cioè la sua battaglia sulla libertà di pensiero, ma non condivido il suo pensiero. Quello che dice su LGBTQ+, e tutte le varie cose, dice l'ultima mia intenzione è entrare nella vita privata delle persone. Quindi prende le distanze da Vannacci, chissà, probabilmente non verrà candidato nella Lega a questo punto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.